prima. E lui è stato un paziente dove gli avevano messo due impianti convenzionali con una dentierina che si attaccava e staccava. Questo è un danno, gli hanno fatto un danno, perché hanno trattato con tecnica semplificata un caso complesso. È come che hai le ruote della macchina che sono tutte staccate, io te le metto e te le avvito con i tappi della Coca-Cola. La soluzione è sottodimensionata quello che devo fare. Quello che succede è che poi l'osso qua lì si è tutto riassorbito da un lato. Se andate a vedere, poi lì l'attacca da un lato ce l'ha tutto riassorbito l'osso. C'era un video dove si vedeva proprio l'attacca 3D. Vedete da questo lato quanto ha dovuto ricostruire la gengiva? Qua non poteva più fare impianti convenzionali, però essendo molto indietro, molto interno gli impianti, dovevamo mettere comunque i denti avanti, serviva tutta quella struttura da ricostruire. Se io gli facevo i denti lunghi fin là, era strano. Quindi la parte di mezzo, che è la barra, serve a connettere i denti con gli impianti. Andiamo indietro. Questa è la squadra per esempio. Ci avete qua il progettista, l'occhio bionico e l'artista delle gengive. Lui è un mio conterrone di Cagliari. E ha fatto un caso, questo l'avete visto pure su internet, un caso in composito questo. Questo è un caso in composito, semplice, guardate quanto osso aveva. C'era tantissimo osso qua. Questa non è un caso così difficile. E' certamente un paziente che deve ricostruire tutta la bocca. Poi c'ha tutti gli speroni e vedete in denti in composito, in trasparenza. Questo è il composito, è un po' più chiaro il composito. Questa era la fase di guarigione. E anche lui ci hanno fatto i complimenti sui vari gruppi. Poi cosa succede? Apro la mail. Faccio la mail qua. Info, prima stavo... Stavo fuori a pranzo. Sono odontotecnico e ho varie esperienze. In cerchia sembrano mai dato troppa attenzione a questi siti del turismo mentale perché mi sembrava visitare i siti che vendevano frutta a mercato a prezzo più basso. Visitando il vostro, leggendo l'attenzione, mi sono soffermato a capirlo. Quello che il dottore per valutare insieme a una futura collaborazione. Li attraiamo. Non è vero che ci odiano, ci vogliamo male, eccetera. Chi riconosce che lavori bene, alla fine, vuole lavorare con te. Ed è quello il segreto per andare a costruire la squadra. Se noi non facessimo vedere quello che facciamo, sarebbe difficile trovare in giro per il mondo i migliori. Questa è la gengiva simulata. La gengiva simulata e anche, vedete qua, la texture di superficie. Questa è la texture di superficie. Le gengive vengono simulate con il composito e sotto c'è il titanio, che va a unirsi poi con gli impianti di titanio. All'interno ci può essere o meno pecton, dipende da quello che dobbiamo fare. Se abbiamo una bocca molto scoordinata, se è una bocca che crea molti stress, allora lì conviene andare a ammortizzare. Per ogni caso, ripeto, all'interno ci vanno cose diverse. Ne abbiamo semplificato molto. Grazie mille. Grazie a tutti.